L'Azion Vetiver, che è una necessità diciamo sociale e operativa, la prima azienda operativa e sociale perché praticamente paghiamo con gli utili nostri iniziative per il bene comune e per l'ambiente. Ecco, praticamente io nasco 25 anni fa come azienda perché non avendo avuto figli, ho deciso che tutti i giovani erano figli miei e quindi ho fatto un progetto per realizzare in breve tempo l'occupazione per almeno un milione di persone dal bracciante allo scienziato. Intanto noi grazie alla nostra attività avevamo diritto di girare e quindi abbiamo continuato a lavorare e abbiamo fatto un servizio per la collettività. I dati possono essere utili soprattutto per fare conoscere le alte qualità di questa pianta per l'insanamento ambientale e nello stesso tempo perché appunto ci sia la possibilità di formare anche persone che possono svolgere questa attività e fare un'attività che nello stesso tempo ha un guadagno, un'esperienza attività e fare il bene comune. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti